Il ruolo del servizio pubblico è quello di aiutare ogni cittadino ad essere più consapevole, più padrone di sé, a fornire chiavi di lettura, di strumenti per interpretare le dinamiche di questo tempo che toccano la vita di ciascuno singolarmente e di tutti. Per far questo il servizio pubblico deve essere capace di trasformare sempre se stesso, di adeguare le proprie capacità di intervento al tempo che cambia.